Buongiorno ad Andrea Pranovi, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Roma Capitale TV, come ogni mattina andiamo a dare uno sguardo a quelle che sono le prime pagine della cronaca di Roma della Repubblica e del Corriere della Sera, cominciamo proprio con la prima romana di Repubblica, Roma è comune, a caccia di sponsor, a Tor di Valle nascerà la CEA Stadium, l'anzalone presidente della Multi Utility, mediò per i 5 Stelle l'operazione del nuovo impianto. Un'altra notizia interessante la troviamo in taglio basso, l'inchiesta a marciapiedi bombardati, viaggio nella città dove i pedoni rischiano di più. Andiamo sulla prima pagina della cronaca di Roma del Corriere della Sera, l'apertura è dedicata alla sicurezza e metal detector a Piazza Navona, parchi d'accesso con transenne presidiate dai militari, l'appello del questore marino, cittadini segnalate i sospetti, feste blindate, barriere, contapersone e supercontrolli per l'appuntamento con le bancarelle. Invece in taglio medio si parla di cronaca, due in manette, corruzione in corsia, arresti a San Camiso, anche una truffa da 5 milioni. Queste sono alcune delle notizie che naturalmente come sempre analizzeremo sui 93 MHz di Radio Roma Capitale nel corso di Buongiorno Roma in diretta fino alle ore 10.